Quinta vittoria nelle ultime sei partite, terza di fila in trasferta per l'Umana, che passa a Trento, 83 a 79 e sale a 24 punti in classifica. Si allunga a quattro incontri la striscia negativa della Dolomiti Energia, che rimane a quota 14 in graduatoria, positivo l'approccio di Johnson e Watt e più sette per i campioni d'Italia dopo due minuti, risposta di Hogg e Forrai, 21 a 23 al decimo. I padroni di casa sono superiori al rimbalzo e con Gomes, Flaccadori e Forrai si portano sul più nove, replica di Bramos, Eintz e De Nicolao, break di 16 a 3 in 7 minuti e 40 a 44 all'intervallo. Nella ripresa, Bramos, imprendibile per la retroguardia di Buscaglia, permette ai Lagunari di toccare il più sette al ventottesimo, 59 a 64 al trentesimo. In apertura di quarta frazione, sempre Bramos per il più nove Reier. Si segna pochino, ma Trento con Santon si riaffaccia a meno tre al trentottesimo. Nel finale, De Nicolao, Eintz e Watt chiudono i giochi, 21 su 26 ai liberi e meno 4 nel saldo recuperate perse per Venezia, contro il 19 su 28 e meno 8 degli avversari, 26 con 3 su 4 da 2 e 6 su 8 nelle triple per Bramos, 16, 9 rimbalzi, 5 falli subiti e 29 di valutazione per Watt, 10 e 5 assist per Eintz. Dall'altro lato, 21 per Forrai, 17, 9 palloni catturati e 7 falli subiti per Santon.